E' stata firmata ieri dal governatore della campagna Vincenzo De Luca l'ordinanza numero 81 con la quale vengono confermate le disposizioni delle precedenti. Salva ogni ulteriore determinazione in conseguenza dell'andamento della situazione epidemiologica quotidianamente rilevata, con decorrenza dal 19 ottobre 2020 e fino al 13 novembre 2020, sono confermate le seguenti misure di prevenzione e contenimento della diffusione dei contagi. A tutti gli esercizi di ristorazione, bar, ristoranti, pizzerie, gelaterie, pub, vinerie e simili, è fatto divieto di vendita con asporto dalle ore 21. Sono esclusi dal divieto gli esercizi di ristorazione che ordinariamente svolgono attività di asporto con consegne all'utenza in auto, i quali possono esercitare la propria attività nel rispetto delle misure di prevenzione e sicurezza vigenti, assicurando un sistema di prenotazione da remoto. La consegna a domicilio è comunque ammessa senza limiti di orario. Ai bar, pasticcerie, gelaterie ed esercizi con simili, è fatto obbligo di chiusura dalle ore 23 alle ore 5 del giorno successivo, nei giorni dalla domenica al giovedì. Fanno eccezione i soli bar punto di ristoro presso le stazioni di servizio delle autostrade tangenziali, nonché quelli presenti all'interno di strutture di vendita all'ingrosso che osservano orari notturni di esercizio. Sono vietate le feste e i ricevimenti, anche conseguenti a cerimonie civili o religiose, matrimoni, battesimi in tutti i luoghi al chiuso e all'aperto con la partecipazione di invitati che siano estranei al nucleo familiare convivente, anche se in un numero inferiore a 30. È fatto divieto di forme di aggregazione o riunioni al chiuso e all'aperto anche connesse ad eventi celebrativi che si svolgono in forma di corteo, ad esempio cortei funebri e comunque non in forma statica e compostazioni fisse. Restano sospese le attività didattiche di verifica in presenza nelle università, fatta eccezione per quelle relativi agli studenti del primo anno, ove già programmate in presenza dal competente Ateneo. L'attività di jogging, ove svolta sui lungomari, nei parchi pubblici, nei centri storici e comunque nei luoghi non isolati, è soggetta alla limitazione oraria ore 6, ore 8 e 30. Negli altri casi è consentita senza limiti d'orario, fermi in ogni caso gli obblighi di distanziamento previsti dall'articolo 1,6 del DPCM 13 ottobre 2020. È confermato il divieto dell'attività di sagre e fiere e in generale ogni attività o evento di cui svolgimento o fruizione non si svolga in forma statica e compostazioni fisse. Fermo l'obbligo di chiusura alle ore 21, secondo quanto previsto dal DPCM 18 ottobre 2020. È confermato l'obbligo per i gestori delle sale gioco e scommesse di consentire l'ingresso nei locali di esercizio soltanto previa disinfezione delle mani con soluzioni idroalcoliche e misurazione della temperatura corporea, vietando l'ingresso ove essa risulti superiore a 37,5 gradi e di limitare la presenza dell'utenza all'interno dei locali in modo tale da garantire il rispetto di un distanziamento minimo di un metro e mezzo tra le persone non che di scongiurare ogni assembramento anche all'esterno pena la sospensione dell'attività. È fatta raccomandazione agli enti ed uffici competenti di differenziare gli orari di servizio giornaliero del personale in presenza, assicurandone un'articolazione in fasce orarie differenziate e scaglionate al fine di evitare picchi di utilizzo del trasporto pubblico collettivo e relativi affollamenti. Per quanto riguarda la scuola, l'ultimo DPCM fa scattare nuove disposizioni a partire dal 21 ottobre, quindi in campagna resta in vigore l'attuale ordinanza. L'unità di crisi si riunirà oggi per adottare misure che riguardano il mondo della scuola.